Il risveglio spirituale di solito nasce così, da qualche domanda e da qualche risposta che ci diamo o l'ascoltiamo. Buona serata a tutti e se ci sono domande noi siamo qui per rispondere. Altrimenti buona serata. Grazie. Da un punto di vista burocratico stiamo aspettando quella legge che dorme in Parlamento e quindi è come non avere riconosciuta una figura professionale che sarebbe il caso di averla riconosciuta dalle istituzioni. Max Oliveri ha avuto il coraggio di fare questo primo corso di formazione, non è completo perché sono state poche ore, però intanto, anzi due anni fa nel 2017, intanto è stato fatto un primo passo. Quest'anno faremo il secondo step che è l'ulteriore formazione che porterebbe a lavorare anche con le persone autistiche. e di base c'è il fatto che è il comitato love giver che poi fa da filtro e quindi noi siamo in 16 al momento. In base a dove siamo dislocati geograficamente possiamo dare il tirocinio inizialmente e poi un'assistenza. L'assistenza chiaramente dipende molto dalla legge perché il tirocinio è gratuito e quindi non c'è uno scambio di denaro perché solitamente quando c'è di mezzo la sessualità e il denaro si fa subito l'associazione alla prostituzione. Io però vorrei sottolineare questo, poi chi abbia voglia di approfondire e seguirmi sul blog, ho scritto diversi articoli dove quando noi parliamo di sessualità sarà perché magari arrivo da una formazione tantrica e quindi dall'intervento che avete compreso non è il sesso. Oggi immagino che abbiate compreso che quando parliamo di tantra e di sessualità non è il sesso ma parliamo di intimità e l'intimità è quel qualcosa di fondamentale che è propedeutico poi a vivere la sessualità. L'incontro, il tocco, il guardarsi negli occhi sono fondamentali e se poi avete piacere di guardare il film nel documentario si evince questo rapporto fra me e il mio assistito. È un rapporto soprattutto di, mi viene da dire da anime perché è questo che c'è stato. È ovvio che l'intimità Matteo comunque l'ha raggiunta non facendo sesso. Pensate, per questo ragazzo aver toccato il mio seno era già un'esperienza sessuale. Arrivare a 40 anni senza aver toccato mai il corpo di una donna e in modo particolare per lui era il seno, significa aver fatto un'esperienza sessuale. Ma quanti comprenderebbero e quindi per questo le istituzioni andrebbero sensibilizzate nel comprendere cosa fa un assistente sessuale? Aspettiamo che ci sia. Non vi nascondo che le rivoluzioni si fanno dal basso, chiunque qui può essere coinvolto, se non fa sentire la sua voce. Per quanto ci possano essere persone come me che abbiano nella loro vita questa missione nel voler aiutare tutti, bisogna che però vi facciate sentire voi, la maggioranza siete voi. Grazie. Grazie.